E' l'amico di una vita, l'ho conosciuto Ernesto più di 30 anni fa, quando io ero a Monza, lo ricordo, era direttore sportivo della Cavesa, ed è nata subito una simpatia naturale che è andata avanti per tutta la vita, sempre ininterrottamente per oltre 30 anni, tutte le operazioni fatte, adesso ricordavamo con Carlo Ancelotti questa estate quando eravamo a Madrid, con Ernesto, le cene, le cose, questa è veramente di una simpatia che ti prendeva, che ti toccava una persona super, ma tanti, tanti, gli aneddoti sono infiniti, perché sai, in 30 anni, in 30 anni, ce ne sono mille, ed è incredibile che l'ultima cosa che ha visto nella sua vita è stato il derby, sua figlia ne ha mandato un messaggino su, subito dovevo il derby, quella felice della nostra vittoria, e sono state le sue ultime immagini, quindi veramente, che cosa che ti tocca profondamente, ripeto, l'amico di una vita, non saprei che cosa aggiungere da un'altra, grazie. 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 Grazie.